ciao cari amici di youtube bentornati allora come vi anticipava pavo prima oggi faremo il nostro primo disegno in 3d qua adesso possiamo scegliere e fare il template noi sceglieremo il design architettonico in millimetri non lo scegliamo in metri perché secondo me è più facile disegnare i millimetri perciò adesso selezioniamo questa voce qui e poi clicchiamo sul pulsante qui sotto in basso inizia ad utilizzare sketchup adesso si aprirà la nostra schermata base di sketchup noi adesso qua vediamo che si presenteranno un bel po di pulsanti non è niente di difficile adesso cercheremo di capirli uno a uno insieme vediamo un po allora qua sketchup ci mette questo mino per farci un po capire anche quanto è grande il disegno questo sarebbe un essere umano questo avrà l'altezza di circa un metro e ottanta un metro e settanta un metro e settanta un metro e ottanta e niente se ci fa fastidio lo possiamo selezionare e cancellare noi lo lasciamo perché c'è abbastanza simpatico adesso incominciamo a vedere un attimo questi pulsanti qui sopra allora vediamo incominciamo con un pulsante che lo strumento seleziona a cosa serve serve a selezionare un oggetto che c'erano sullo schermo se qua clicchiamo sul sull'oggetto vedrete che ci fa la selezione intorno intorno a questo oggetto poi se clicchiamo col destro noi ci avremo queste varie opzioni cancella nascondi blocca modifica componente però quello lo vedremo più in la cosa serve perché comunque sappiate così si può selezionare se vi da fastidio andate sul bottone cance lo cancellate altrimenti andate su modifica annulla cancella lo rimettete e così via poi qua ci abbiamo il pulsante cancella con questo pulsante potete fare sempre la stessa operazione tipo cancellare l'omino o cancellare linee che avete disegnate così qua incominciamo col primo pulsante vero che ci serve per disegnare allora se clicchiamo su questa freccetta qua che verso il basso selezioniamo linea e possiamo utilizzare la tipica mattita per disegnare adesso io ingrandisco un pochettino l'immagine così vediamo meglio vedete che qua lui la mattita in automatico il programma ci fa un ancoraggio sulle linee adesso noi clicchiamo col pulsante sinistro del mouse lasciamo premuto e tiriamo vedete e riusciamo a tirare una linea poi lui quando trova un'altra linea ci permetterà di di ancorarci su quella linea noi non ci interessa e adesso lasciamo il bottone del mouse e ci ha fatto la prima linea mettiamo il caso che vogliamo fare un quadrato noi prendiamo semplicemente vedete qua c'è questo puntino verde noi clicchiamo sul puntino verde lasciamo il puntino il bottone del mouse poi clicchiamo nuovamente col tasto sinistro lo lasciamo poi cerchiamo di nuovo il punto d'ancoraggio tiriamo verso qua vedete che adesso ci appare il cerchetto blu lasciamo il mouse eccoci qua e abbiamo fatto un bel diciamo rettangolo perché non si può definire un quadrato e questo è il nostro primo disegno poi con la mattita si può fare questa era lo stile linea poi possiamo fare anche un disegno a mano libera clicchiamo su mano libera e lasciando premuto il tasto del mouse potremmo fare un disegno a mano libera eccoci qua ritorniamo magari sul punto d'ancoraggio eccoci qua e ci ha creato questo disegno questo è lo strumento matita adesso qua andiamo sul prossimo pulsante che sarebbe l'arco vediamo clicchiamo sempre su questa freccetta verso giù che ci fa selezionare le varie opzioni clicchiamo sopra vedete che qua adesso ci crea sto righello qua con questo righello cosa facciamo noi teniamo premuto il pulsante vedete che teniamo il premuto lo tralasciamo scusate un attimo che mi si è imparlato il computer vedete ok vedete e riusciamo a tirare un cerchio più o meno rotondo dobbiamo cercare di raggiungere di nuovo il punto d'ancoraggio lasciamo e clicchiamo due volte è una specie di doppio clic veloce che dobbiamo fare abbiamo creato un cerchio adesso questi disegni così non ci piacciono facciamo troppa confusione cancelliamo un attimino qua vedete usiamo sempre quel lo strumento cancella e possiamo cliccare o uno alla volta così ok o altrimenti premendo il tasto shift possiamo prendere più e selezionare più volte però scusate utilizzando lo strumento seleziona possiamo cancellare il tutto adesso magari lasciamo tralasciamo lo strumento arco perché abbastanza complicato da utilizzare e andiamo sullo strumento rettangolo lo strumento rettangolo è abbastanza ovvio come utilizzare prendiamo sempre un punto d'ancoraggio teniamo vedete allora se voi voi potete o tirarlo su su questa asse o su questa asse vedete che si muove sull'asse blu o altrimenti lo potete trascinare su questa asse rossa o altrimenti sull'asse verde comunque voi provate giocateci un pochettino e vedrete che con un po' di abilità riuscirete a tirare questo rettangolo io sto sempre tenendo premuto il bottone sinistro del mouse per tirare questo rettangolo poi ci abbiamo altri tipi di rettangoli ci abbiamo il cerchio ci abbiamo il poligono ci abbiamo adesso vedete qua il cerchio lo potete tirare così sempre il tutto sempre lasciando premuto il tasto del mouse mi sembra ovvio o altrimenti facciamo magari un poligono sono varie modalità per disegnare queste cose qua proviamo un attimo il rettangolo ruotato cosa molto complicata ecco che sarebbero i rettangoli praticamente che riusciamo a mettere in verticale adesso per l'inizio magari non vale la pena provarlo però magari con un po' di pratica riuscirete a utilizzarlo anche voi grazie a tutti